No, adesso glielo dici No, glielo dici Ma altro che incazzato, ma scusa un attimo te cosa faresti se ti trovi tutte le tue cose che nella vita ti sei praticamente guadagnato hai accumulato, hai fatto godere anche hai fatto praticamente godere gli altri perché quello che facevo io è quella roba qua alla fine e poi te le trovi su queste cose come cazzo si chiamano le aste cioè, che è una cosa inconcepibile capisco che c'è anche di peggio oggi perché c'è subito tutte quelle robe lì che puoi vendere su internet ma in passato non era così vabbè, c'era solo l'asta ma a me sinceramente mi dà fastidio perché se qualcuno dei miei amici che magari andava prima di me cosa dovevo fare? gli prendevo la roba andavo dentro a casa loro gli prendo il mantello gli prendo la corona non si può neanche concepire una cosa del genere cioè, sinceramente se l'amicizia per me è una cosa importante e sono sinceramente molto incazzato cioè, ma proprio da roba da dire che se li vedo in giro per strada gli do anche due schiaffi capisci? cioè, su quelle robe non si può assolutamente neanche sentire una cosa del genere quel mondo qua sta andando nella merda sì, ma questo è proprio tanta ti capito? grazie a tutti